Fedez ha rischiato di essere truffato ed è stata sua mamma ad accorgersi di quanto stava accadendo. Anna Maria Berinzaghi, questo il nome della madre, è l'amministratrice delegata della DOOM, acronimo di Dream of Ordinary Madness, ed è la società di Fedez. Il rapper ha scelto di affidarsi a sua madre per curare la sua società perché è di sicuro una delle poche persone di cui può fidarsi davvero. Anche nella serie TV TV Ferragnet, Federico Lucia, questo il suo vero nome, ha spiegato di essere arrivato al punto in cui si fida poco delle persone dopo aver ricevuto delle delusioni. L'allusione era anche alle collaborazioni e alle amicizie finite con Rovazzi e il lunga axe, molto probabilmente, pure se non ha fatto il loro nome. Il fatto che ha rischiato di essere truffato stavolta potrebbe averlo spinto a chiudersi in se stesso. E potrebbe essere questo il motivo dietro la sua pausa dai social network. Di sicuro la notizia del tentativo di truffa a Fedez spiegherebbe il suo silenzio su Instagram dove invece di solito è molto attivo. Ma cosa è successo? Come riportato dai quotidiani online, tra cui Open, la signora Berrinzaghi ha sventato una truffa da 100.000 euro all'azienda. La società si occupa dei diritti d'immagine di Fedez e di scouting di giovani artisti. Di mezzo ci sarebbe un contratto pubblicitario con il marchio Seven, che però è estraneo ai fatti. Al momento il pubblico ministero di Milano sta indagando sull'accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti, un ex dipendente della DUM avrebbe fatto credere a Fedez e a sua mamma di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione con la Seven per 250.000 euro. In realtà però, la Seven aveva offerto 350.000 euro. I 100.000 euro non rivelati alla DUM sarebbero dovuti finire a un'altra società, dove questo ex dipendente sarebbe stato assunto successivamente. Stando agli atti, inoltre, il soggetto sotto accusa avrebbe anche convinto la Seven a versare i 100.000 euro direttamente all'altra società dicendo che si trattava di una operazione intercompany. In realtà però questi accordi non c'erano con la DUM. La mamma di Fedez ha scoperto la truffa e ha denunciato tutto. Nei giorni scorsi pare sia arrivato l'avviso di garanzia all'ex dipendente.